Bonus 200 euro, IMSS fa sapere di aver completato la prima fase di pagamento dell'indenità una tantum a più di 13 milioni di pensionati e 800 mila nuclei familiari per settori di RDC, anche se non si sa ancora se e quando ci sarà la nuova finestra di elaborazione per i titolari di reddito di cittadinanza che pur avendo diritto al bonus non lo hanno ricevuto. Ciò che è certo è che se ne parlerà ad ottobre, o meglio, a partire da ottobre per le altre categorie a cui il bonus aspetta in automatico, e cioè titolari di disoccupazione agricola di quest'anno, titolari di Naspi e Discol nel mese di giugno, stagionali e altri lavoratori già per settori dei bonus onnicomprensivi dell'epoca Covid. E sempre da ottobre è prevista la liquidazione del bonus a domanda per i co-co-co, i lavoratori dello spettacolo, gli autonomi senza partita IVA, gli incaricati alle vendite a domicilio, i lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittente, tra cui rientrano anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, che non ricevono per quest'anno la disoccupazione agricola, ma hanno almeno 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito fino a 35.000 euro. È quanto riporta il comunicato stampa di IMSS di oggi, 16 agosto, che fa un po' il quadro della situazione sull'indenità una tantum di luglio, e che tra l'altro anticipa anche le categorie a cui spetta il bonus a 200 euro esteso del decreto legge aiuti bis, e cioè cassi integrati e lavoratrici rientrate dalla maternità, sportivi, dottorandi, autonomi, assegnisti di ricerca e pensionati dal primo luglio, per cui però sarà necessario ancora attendere una specifica circolare di riferimento. Ad ogni modo, ciao amici di Radio Uci, sono Giulia e continuiamo la nostra rassegna stampa di oggi, parlando di assegno unico e universale, per cui ci sono due buone notizie, che riguardano l'aumento dell'importo e l'automaticità, ma prima, se apprezzi il nostro lavoro di approfondimento quotidiano, lascia un mi piace. Passiamo adesso all'aumento. Come è noto, l'importo mensile dell'assegno unico si basa su diversi fattori. L'ISEE del nucleo familiare, il numero dei figli e l'applicazione delle eventuali maggiorazioni. Di base si va da 175 euro a 50 euro per i figli minori, fino a 25 per i maggiorenni senza ISEE. Tuttavia, per esplicita previsione normativa, le somme dell'assegno unico e universale devono essere rivalutate ogni anno sulla base del costo della vita. E visto che si prevede per il 2023 un tasso di inflazione dell'8%, questo potrebbe portare da gennaio un aumento dell'importo base da 175 euro a 190 euro circa per chi ha ISEE più basso di 15.000 euro. Ovviamente anche gli altri importi sarebbero adeguati sempre in percentuale. Ad esempio, la soia minima di 50 euro potrebbe salire a 54 e così via. Non solo, anche le soie di ISEE saranno adeguate allo stesso costo della vita e quindi il limite minimo per avere l'importo più alto di assegno unico, cioè 15.000 euro, potrebbe salire fino a circa 16.000 euro. Però non si facendo all'altro aumento dell'assegno unico, cioè quello rivolto alle famiglie in cui ci sono figli con disabilità, che era stato approvato con il decreto semplificazioni. Ma torniamo a noi e vediamo l'altra novità dell'assegno unico, l'automaticità. In altre parole, per chi ha già richiesto e ricevuto l'assegno unico e non ha dichiarato nessun tipo di variazione, l'assegno sarà riconosciuto automaticamente il prossimo anno, senza la necessità di presentare nuovamente la domanda. Di certo, un passo avanti e una buona semplificazione, almeno su carta. Poi vedremo come sarà applicata nella realtà. E detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se la rassegna ti è piaciuta, lascia un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!